Oggi noi parliamo di viaggio di San Paolo. Allora, vi ricordate la volta scorsa che nella chiesa di Antiochia c'erano molti profeti e maestri. A un certo punto lo Spirito Santo, mentre stavano celebrando il culto del Signore che mi ha messo e di Giunallo, scese e disse, riservate Germè, Barnaba e Saulo per l'opera la quale gli ho mangiato. Allora, dopo aver Giunallo pregato, imposero loro le mani, come succederà a voi il giorno della cresima, e li inviarono. Quindi, prima cosa, Paolo, San Paolo parte per questi viaggi, non perché amava il turismo, ma semplicemente perché lo Spirito Santo lo ha inviato. Allora, prendete adesso la cartiglia. Siamo in Antiochia, se voi guardate ci sono colori diversi, giusto? Il primo viaggio è un colore blu, il secondo viaggio è un colore giallo, il terzo viaggio è un colore verde. Noi non parleremo oggi del viaggio a Roma perché ne parleremo più avanti. Allora, il primo viaggio parte dall'Antiochia di Siria e si porta con sé un certo Marco. Marco, chi sarà secondo voi questo Marco? Conosciamo noi un Marco? Dal Vangelo secondo Marco. Dal Vangelo secondo Marco, esattamente quello. Quello delle voci. No, via ragazzi. Marco va insieme a Paolo. Quindi, come avrà fatto Marco a scrivere il suo avanti? Da chi ne avrà saputo delle cose? Non da da lui. È da Paolo. Ok. Allora, parte dall'Antiochia di Siria e va a Cipro. A Dada Cipro, che ha detto. Cosa facevano? Annunciavano la parola di Dio nelle sinagoghe, smascherarono un mago, un falso mago, che diffondeva mezzoglie contro di loro e entra con sole si convertì. Da Cipro andò ad Altaglio, a Perge e andò nella zona di Antiochia di Pisidia. Però questa volta non più con Marco perché Marco poi era tornato. Con Barnaba. Nelle sinagoghe cosa facevano? Andavano nelle sinagoghe perché era un pietreno. Annunciavano la parola, la spiegavano. Cioè, leggevano la parola dell'Antico Testamento. E poi la spiegavano, ma la spiegavano alla luce di quello che era successo a Gesù. Annunciavano che Gesù era il Messia, era il figlio di Dio che era risorto dai morti. Cosa succedeva? Che molti giudei si convertivano. Addirittura dicono gli altri la parola del Signore si diffondeva in tutta la regione. Ma purtroppo altri giudei, a sentire parlare che Gesù è figlio di Dio, che Gesù è stato messo a morte, che Gesù era risorto, non ne volevano sapere, iniziavano a perseguitare. E li cacciavano. Via. Quindi l'Antiochia di Pisidia si rettarono a incontro. Anche qua cosa succedeva? Molti giudei e molti greci divennero credenti, ma molti giudei si mesero contro di loro e la popolazione si divise. Quelli che diventarono cristiani e quelli che li perseguitarono. Paolo e Barnabo qui sfuggirono a un tentativo di aggressione, di lapidazione. Piedono e per non morire, via. Da icono vanno a Listra e a Verde. A Listra cosa succede? Che Paolo guarisce un uomo paralizzato. I presenti a Listra cominciano a dire Gli dei sono arrivati tra noi! Anni iniziano ad adorarli, come facevano quei loro dei. Allora gli dice Paolo, Ernest e Barnabo e Speraus e volevano offrire loro dei sacrifici, come erano i loro conspettuti. Paolo e Barnabo cominciarono a dire No, 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 ma noi siamo solo degli uomini. Questa è la novità. Quello che noi facciamo, lo facciamo noi, vedete noi. Ma lo facciamo in nome di un altro, in nome di Gesù che ha risolto. Ma alcuni giudei lapidarono Paolo Tanto che Paolo cade a terra, mezzo morto, lo credettero morto e i suoi discepoli gli dissero Non c'è finita di niente Poi lo aiutarono a garantarsi e lo portarono ad Erbe insieme a Barnabo Da Erbe, attraverso l'Istra, i Corio, l'Antioquia di Pisidia tornarono alla base, cioè l'Antioquia di Sina In tutte queste comunità che loro avevano incontrato andando le rincontrano tornando Cosa fanno? Dicono ai fedeli Lo sappiamo che credere in Gesù per voi non è affatto facile Avete visto quello che fanno a noi? Parlare di Gesù, credere a Gesù non è facile Ma lo tenete duro Tenete duro perché è Lui la verità Se voi tenete duro troverete la felicità Ma un conto è che noi lo diciamo a voi o che ce lo sentiamo dire ai nostri sacerdoti Cosa ci rimettiamo? Niente Andiamo, andiamo Non possiamo dire Gesù, niente La rischiamo la vita Quindi quando loro gli dicevano Tenete duro Voleva dire Un po' come quelli da entrare Tenete duro Non mollate Continuavano quindi a procavare la parola di Dio Sapendo che rischiavano la morte E fecero una cosa che ci riguarda da vicino Scelsero Siccome loro poi andavano via Chi ci rimaneva lì a dire ai cristiani Coraggio, dai forza Tenete duro Scelsero alcuni presbiteri Presbiteri pare che significa anziani Quindi scelsero alcuni anziani Alcuni saggi cristiani Di queste comunità e dissero A battaglia ci pensi tu A risca ci pensi tu Ci pensi tu Ci pensi tu Sono i nostri presbiteri I nostri sacerdoti Anche adesso mica il Papa Andavano a esortare i cristiani A rimanere fedeli No Manda i vescovi Manda i sacerdoti Che sono i presbiteri Bene Dopo aver pregato e digiunato Affidavano queste comunità Allora E tornarono all'Antiochia Torniando all'Antiochia di Siria Che cosa fecero Paolo e Paolo? Riunirono Immaginate Allora come è andata? Raccontaci Raccontateci Riunirono la chiesa E raccontarono Tutto quello che era successo Le cose belle e le cose brutte Per le cose brutte Deve stare in preoccupazione Per le cose belle Ma che gioia Ma vi rendete conto Che a piedi Non c'erano mica gli aerei Gli autobus Erano percorsi moltissimi Ristiavano Cioè Era una cosa del mondo C'era però un problema Che secondo me Sapete dire anche voi Qual era il problema? Che ha vissuto Pietro a Cesarea In quella attiva Dello successo a Cesarea Quando Pietro è entrato A casa del centurione Potevano entrare Gli ebrei In casa dei pagani Oh no Assolutamente no Si contaminavano E allora c'era Nella prima chiesa Cosa è un problema? C'era che diceva Può essere cristiano Solo chi prima Diventa ebreo Solo chi si fa Circoncidere Può diventare Prima ebreo E poi cristiano Altri invece Che dicevano Ma no ragazzi C'è gente che non è mai Stata ebrea Quelli lì Diventano Direttamente cristiani Discussero Gli apostoli E alla fine Decisero Che non era necessario Passare Attraverso La circoncisione Per diventare cristiani Siamo a colore giallo Tornarono A trovare I fedeli Di Antiochia Di Pisidia Per fare che cosa? Passavano In queste comunità Dierano Buongiorno Ciao Come è stato Tutto bene? D'Antiochia Di Pisidia Arrivarono a Prode Quando fu a Prode Allora qua E non vi ho detto Che Paolo Si prende così Un certo Silla E un certo Timoteo Due discepoli No? Bene A Prode Paolo Ed una visione Un macedone Della macedonia No? Che lo suppicava Ti prego Vieni in macedonia Aiutaci Allora Paolo Dice Oddio Devo andare in macedonia Qua c'è bisogno di noi Bene D'altro ade Quindi vanno a Filippi Come ben sapete Filippi è in macedonia Giusto? Cosa fecerà a Filippi Che è una colonia romana In macedonia Restarono alcuni giorni Al momento della preghiera Del sabato Ricordatevi che è il giorno Del sabato Andarono Loco il fiume Annunciarono Il ragione Ad alcune donne Lidia Che era una commerciante Di corpora Si fece battezzare E li invitò A casa sua Paolo In questa zona Liberò Una donna Dallo spirito marino Però cos'è successo? Per questo miracolo Che lui fece Si misero tutti Contro di lui Iniziarono a Perseguitarlo Lo incarceravano Lo misero in carcere Però poi Fu liberato Miracolosamente Furono condotti Dai magistrati Che lo liberavano Sapete perché? Perché Paolo Era un cittadino romano E questa cosa Che loro un cittadino romano È una cosa Che gli ha saputa Tantissimo A salvosi Bene Da Filippi Andarono a Tessalonica Come ha fatto Andare a piedi Piedi Anni Anni Sì certo Perché dicevano Che andavano Contro l'imperatore Voi dite Che bisogna adorare Solo Dio Allora Ricordatevi Le cose Che abbiamo detto Su Roma Allora siete contro L'imperatore Chi è contro l'imperatore L'imperatore romano Che ne sono Fuori Fuori Aiutati a fuggire E andarono A Berea A Berea C'erano Entrarono Nelle sinagoga Molte greci Giudei Donne Nobili E entusiasti Si convertevano Ma C'è sempre qualcuno Che ha fatto le scatole Di Giudei Di Tessalonica Da Tessalonica Andarono a Berea Ad agitare Anni Fratelli Di Berea Quali avrebbero Accordi benissimo Ma vennero Da là Vieni Non credeteci A mettere di scoglia E anche qui Via Paolo Fatto partire Per Atene Sapete dove Atene Grecia La città di Atene Voi avete fatto i greci C'è chi ha fatto la Odissea C'è chi ha fatto i greci E gli dei greci Ve li ricordate Chi sono? Deo C'è chi ha fatto i greci Atene 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 Ares Ea Ea Atene Apollo Allora per i greci Apollo Per i greci I dei Erano intoccati Erano loro Sulla nell'olipo Che governavano Le erite dei modi Immaginate Questo Paolo Che arriva Da vi andate E inizia a dire Vi annuncio io Chi è il vero Dio Non sono i vostri dei Dio Dico io Chi è il vero Dio Secondo voi? Ma loro Che erano vostro L'hanno ascoltato Sapete quando è Che hanno iniziato A scoccere molto il naso A cacciarlo via? Quando Gesù Inizia a parlare Di resurrezione Dei morti Paolo E Paolo Paolo ha cominciato a Quando Paolo ha cominciato A parlare Di resurrezione Dei morti Quest'anno ha detto Beh su questa cosa Ti sentiamo un'altra volta Ciao ciao Ti salutiamo Via Da Tene Andarono al Corinto Questa parola Vi fa ricordare qualcosa? I Corinti Ah beh I Corinti I Corinti I Corinti Quatt'è che se ne ha parlato I Corinti Non le ha messi Dalla lettera Di San Paolo Apostolo Ai Corinti I Corinti Sono questi Lui prima Li ha conosciuti Corinti o Corinti È la stessa cosa Lì Anche te saloni Gesi C'erano Acle e Priscilla Che lavoravano Come fabbricanti Di tende Insieme a lui Perché Paolo Di vestiere Faceva i fabbricanti Di tende Lavoro con loro Come fu perseguitato A causa Dell'annuncio Del Vangelo No Che novità Poi andò Da Corinto A Efeso Si recò A Gerusalemme E poi Ad Antiochia Di Siria Anche qui Molte conversioni Molte perseguizioni Poi cosa fa Dice Aspetta che vado a salutarvi Entro gli altri apostoli Quindi si torna Si ferma un attimo A Gerusalemme Ma dopo Gerusalemme Torna un attimo Il secondo Vangelo Arriviamo adesso Al terzo viaggio Le date sono Qua siamo Da 53 A 57 D'Antiochia Di Siria Cosa fa Torna A Efeso Ritorna A visitare Le chiese Già visitate Insomma Sarebbe come dire Che il Papa O un vescovo Il vescovo Fanno come Delle visite Le loro parrocchie Il vescovo nostro Il vescovo E non è Tutti i giorni Però è come che dicesse Bene Oggi vengo a visitare Santa Caterina Vedete come sta Come sta andando Bene Paolo faceva quello Andava a visitare Il suo comunismo Cosa Cosa fa A Efeso Efeso Dalla lettera di San Paolo Apostolo Agli Efesili Sono gli Efesili Sono questi qua Paolo incontra Alcuni discepoli Parla loro Dello Spirito Santo Li battezza Sapete cosa succede Incredibile Non ce la speriamo Anche lui Una nuova Pentecoste Cioè In mezzo a gente Che non sapeva niente Non era un pofino Non era discepoli Mentre lui Parla loro Scende lo Spirito Santo Iniziano a parlare In lingue diverse Lui Predica il Vangelo Per amore di miracoli Ci sono un sacco di maghi Lui li smaschera Può succede una cosa Veramente Dovete sapere Che avevano I doletti Anche loro C'erano gli orefici Che facevano Questi doletti D'oro E guadagnavano Un sacco di soldi Secondo voi Che va di bene C'è uno sole Che è il vero Dio E non era L'idolo Erano molto contenti Questi orefici No Si arrabbiarono Da morire Perché E li cacciarono Cioè Fece un tumulto Incredibile Una rivolta Perché più questo Preditava Gesù E meno la gente Comprava i loro Idoli d'oro Da Efeso Quindi va via Torna La macedonia Filippi Atroade Qui Un giorno ve lo racconterò Annuncia il Vangelo E celebra D'Eucaristia Un ragazzo Che ascoltava La romeria No Si addormenta Cade dalla finestra E muore E Paolo Non risuscita Aspetta In altra ode Paolo Corna Mileto E quando I male Padremo Ci sarà un momento Ragazzi Straziante Straziante Perché qui Paolo Manda a chiamare Tutti gli anziani Della chiesa Di Efeso E perché sente Di dover tornare A Gerusalemme E sente Che sarà L'ultima volta Che li vedrà Piangeranno E' un attimo Da Mileto Va a Cicc E a Cesarea E a Cesarea C'è un profeta Che viene Dalla Giudea Lo lega Magno e piedi E gli dice Ti faccio vedere Cosa ti faranno Se vai a Gerusalemme Ti legheranno Come ti sto legando Io Ti consegneranno Alle mani Dei pagani E tutti a dire Di non andare Ti prego Paolo Non andare Non andare Sapete cosa risponde Paolo Dice Io Sono pronto Non solo A essere legato Ma sono pronto Ad andare A morire Per Gesù E tutti E tutti Dissero Se tu sei così Convento Sia fatta La volontà Di Dio Del Signore Da Cesarea Arrivò a Gerusalemme A Gerusalemme I Romani Perché voi sapete Che i Romani Erano tranquilli Dicevano Basta che voi Facciate le vostre parole Non ci rompiate le scatole Non vi facciamo Fare lo che volete Ma i Giudei Tranquilli Non ci stavano Iniziarono Iniziarono a rivoltarsi Contro Paolo Vengono i Romani A vedere cosa succedeva E i Giudei Che cosa Iniziarono a dire A morte A morte Uguale a Gesù Solo che Lì Paolo Tira fuori Il suo asso Della manica E in quel momento Non lo uccidono E Ci fermiamo qua Con un racconto Con un racconto Con questi Di viaggi Perché è stato importante Che voi Abbiate visto Questi spostamenti Perché Vieneciate conto Che Per annunciare Il Vangelo A noi Perché noi Conosciamo Gesù Perché noi sappiamo Che seguendo Gesù Ci salviamo Dalla morte Ci sono delle persone Che hanno Dato tutta La loro vita Perché quando Andremo a Roma Vedremo che San Pietro E San Paolo Subiscono Il Maldirno Per Gesù Ma prima di arrivare Lì Non è stato Un altro Di momento Prima di arrivare Lì Hanno rischiato Tutta la vita Milioni di volte Di essere Nessi a morte E nonostante questo Hanno continuato Per fede Con questo Deve dare Forza La nostra fede La nostra fede